buonasera buongiorno a tutti buongiorno a tutti benvenuti a questo nostro dialogo di Urbisaglia abbiamo qui con noi una carissima amica che conosco da tempo e da tempo ormai mi sono abituato a vederla per i corridoi della nostra università in comune che tra un po' non sarà forse più in comune ma chissà comunque siamo qui con Francesca Pangallo che si è appena addottorata a Cafoscari per l'appunto con una tesi dal titolo Passaggi di Stato, ricezione e traduzione dell'opera di Primo Levi negli Stati Uniti che è l'argomento per cui l'abbiamo invitata a questa chiacchierata per questa iniziativa dottorato durante il quale ha avuto anche modo di approfittare di un'esperienza da visiting student penso all'università di Cambridge ma nel mondo glosassone lei non è stata solo a Cambridge perché appunto è stata anche Italian Language Intern alla Colgate University di New York quindi siamo non più in Inghilterra ma negli Stati Uniti Assistant Residence Director per due edizioni della Summer School di Harvard presso Cafoscari e docente del Writing Clinic Lab sempre per queste iniziative e questo contesto buongiorno Francesca buongiorno a tutti allora parliamo di Primo Levi quindi ebbene sì, ancora una volta ancora una volta lei poverino ma parliamo di Primo Levi perché appunto il lavoro di Francesca è stato il tuo lavoro, anzi è stato appunto impostato e ha incontrato diverse volte problemi anzi problemi, indagini, suggestioni di tipo editoriale di tipo editoriale in particolare in un confronto sempre col mondo anglosassone e però prima di parlare direttamente al mondo anglosassone ti chiedo una piccola introduzione ti chiedo quale fu quale sia stata la ricezione e il rapporto dell'opera di Primo Levi con l'editoria italiana in genere per iniziare allora sì intanto grazie Stefano per avermi appunto chiesto di partecipare a questa iniziativa soprattutto perché appunto parlando e trattando di Levi ormai da tanti anni devo dire che penso ritengo che sia uno scrittore le cui vicende editoriali sono state molto indagate nel corso del tempo da parte della critica non solo italiana ma anche internazionale e che tuttavia sono molto significative di un processo costitutivo che può avere avuto la nostra letteratura quindi anche come dicevi adesso prima di parlare delle edizioni estreme appunto soffermiamoci sulla ricezione italiana prima dicevo della nostra letteratura dalla seconda metà del Novecento in poi ovvero nel dopoguerra dove un attimo i canoni le esigenze il modo di scrivere cambiano e si riassessano in base a una sensibilità diversa che era appunto quella di un'Italia comunque spaccata quindi per rispondere alla tua domanda intanto bisogna tenere un attimo presente non tanto l'argomento e la tematica principale delle prime opere di Levi ovvero la testimonianza diretta della esperienza concentrazionaria ma del contesto italiano in quanto residuo di esperienza bellica ma anche di guerra civile che è una cosa che è stata sottolineata molto spesso e anche e soprattutto in direzione di quali opere di quali memorie di quali testimonianze vengono pubblicate in Italia dopo il 1945 e l'Italia è l'unico caso è stato sottolineato molto spesso dagli studiosi dove la diciamo controparte civile e la lotta antifascista da parte della resistenza predomina soprattutto all'inizio per riscattare l'immagine di un paese che comunque era spaccato e diviso e usciva da un conflitto bellico decisamente traumatico in tanti sensi quindi insieme alle memorie dei sopravvissuti che hanno diciamo che possono rientrare o assomigliare con le problematiche e il contesto portati alla luce da Levi ovvero quello dell'ebreo e della minoranza schiacciata dal Reich nazista l'immagine del partigiano e dell'anche prigioniero politico sono due figure che tendono a emergere nelle scelte editoriali del panorama italiano in un primo momento quindi ad esempio non solo libri e resoconti sull'esperienza partigiana che di fondo diventa l'eroe di guerra il vero sopravvissuto prima degli ultimi membri della comunità ebraica vengono così ecco ricordati con maggior frequenza da parte sia dei giornali sia dell'editoria italiana da qualsiasi punto di vista da nord a sud non ci sono differenze in questo e dall'altra parte ad esempio l'Espèce humane di Robert Antelme che è uno dei libri cardini dei resoconti dell'esperienza concentrazionale europea viene tradotto dal francese all'italiano addirittura prima dell'edizione canonica di Se questo è un uomo pubblicata dai Naudi nel 58 e quindi si preferisce pubblicare più memorie di tipo politico legate all'immaginario della resistenza rispetto all'esperienza concentrazionale in sé e ancora prima di pubblicare le nostre memorie o meglio ancora prima di far sì che queste memorie venissero pubblicate su larga scale diffuse presso il pubblico c'è l'importazione e la traduzione di altri testi che nel frattempo si erano sviluppati in Europa quindi in un certo senso Levi fa molta fatica per via di tutte queste ragioni di contesto storico e anche linguistico come è stato notato da Berpoliti perché di fondo l'italiano di Levi è una lingua estremamente standardizzata scolarizzata la tipica lingua del liceo classico la chiama lui che di fondo però è la lingua dell'Italia che ha perso la guerra non della resistenza quindi dell'immagine vittoriosa che si voleva mandare in quel periodo pertanto la fatica di Levi nel pubblicare queste queste sue primi primi tentativi di scrittura è legata a un problema più ampio cioè di non comprensione totale non solo italiana italiana è una cosa relativa a ogni paese ma per quanto riguarda il nostro contesto c'è molta difficoltà a capire che cosa e in che modo distribuire al pubblico la memoria dei fatti appena trascorsi e Levi viene veramente come posso dire ingorgitato in questa voragine di confusione editoriale che c'è in Italia e riguardo a questo è sintomatico ed è importante sottolineare che la prima edizione l'edizione che noi tutt'oggi leggiamo di Se questo è un uomo che è la prima opera a volume pubblicata di Levi non è stata pubblicata presso in Audi ma da una piccola casa editrice torinese la Francesco De Silva poi estintasi negli anni e inglobata dalla nuova Italia di Firenze che per caso anzi per insistenza di alcuni membri della diciamo elitto intellettuale torinese riesce a pubblicare il il manoscritto completo di Se questo un uomo e a proposito di questo la prima edizione di Se questo un uomo in volume che arriva verso l'ottobre del 1947 in realtà è preceduta dalla pubblicazione sul settimanale di Silvio Ortona L'amico del popolo di alcuni capitoli quindi Levi inizia a scrivere in un momento in cui c'è molta confusione editoriale in Italia come abbiamo detto ma allo stesso tempo i suoi capitoli circolano già diciamo non in forma clandestina in forma clandestina ovviamente perché Levi cerca il consenso non era uno scrittore cerca di comprendere presso l'opinione di amici e di persone di cultura che poteva conoscere se quello che stava dicendo poteva avere un riscontro e della poteva essere apprezzato ma al di là di questo diciamo che le prime pubblicazioni e l'attività scrittoria di Levi legata alla stampa al giornale a tanti altri quotidiani italiani viene prima della pubblicazione in volume che arriva in un secondo momento e dopo dieci anni ritorna finalmente in quella edizione canonica che tutti conosciamo adesso pubblicata dai Naudi e che da lì in poi quindi dal 1958 in poi non smetterà mai più di essere pubblicata diventando poi in Audi l'editore diciamo italiano di fiducia e diciamo l'unico editore delle opere di Levi al momento ancora poi a un certo punto in Italia un editore di fiducia a un certo punto fa il salto fa il salto e va all'estero va all'estero e quello che la parte di estero diciamo che ci interessa in questo discorso è appunto l'Inghilterra e gli Stati Uniti quindi il mondo anglosassone che già al suo interno è diverso però il mondo anglosassone ma mentre hai spiegato molto bene secondo me come mai in Italia a un certo punto arriva arriva con i Naudi arriva questa pubblicazione in volume invece anche per ragioni storiche invece quali sono le ragioni di un interesse letterario e quindi anche editoriale di un'opera come quella di Primo Levi nel mondo anglosassone allora un paio di una piccola premessa hai detto giustamente che l'opera di Levi cioè il filone anglosassone è uno diciamo dei così dei campi della traduzione dell'opera di Levi che al momento è conosciuta tradotto in tutto il mondo anche in Giappone e in Russia finalmente però come dire la peculiarità del filone anglosassone in particolare il rapporto con gli Stati Uniti è fondamentale per quanto riguarda l'esordio di Levi perché quando parlavamo prima di Levi che torna finalmente dalla Polonia inizia a scrivere in maniera febbrile tutti i capitoli che poi sarebbero stati incorporati nel volume di Se questo un uomo e ne cerca un riscontro vengono pubblicati appunto su quotidiano e confrontati con una piccola nicchia di persone nel diciamo nel tentativo di trovare un editore italiano Levi manda questi stessi capitoli o meglio 10 su 16 capitoli del manoscritto anche a sua cugina Anna Foa che si era trasferita negli Stati Uniti nel 1935 allora Anna Foa chi era? era la sorella dell'avvocato Vittorio Foa che era membro del partito d'azione e parte della resistenza antifascista italiana e che quindi quando si vede arrivare questi capitoli nel 1946 sotto richiesta di Levi di tradurli e di cercare un editore negli Stati Uniti proprio perché Levi sapeva già che se voleva che il suo messaggio fosse tramandato ascoltato istituzionalizzato come memoria di quello che era successo in Germania e in Bologna in quegli anni doveva cercare un vaccino d'ascolto più grande e aveva giustamente individuato negli Stati Uniti un canale preferenziale per poter essere ascoltato da un maggior numero di persone d'accordo parliamo di rilevanza del messaggio dell'urgenza di condividere quello che è successo tuttavia questa pubblicazione cioè diciamo che il doppio tentativo di pubblicazione italiano e americano fallisce su entrambi i fronti cioè in Audi altre case editrici più importanti così non accettano all'inizio cioè quindi ancora prima degli anni 50 di pubblicare un testo che era molto maturo e molto forte per l'assessibilità di quegli anni stessa cosa negli Stati Uniti dove ovviamente ancora il problema era diciamo aveva una risonanza ancora minore essendo la vicenda svoltasi in Europa diversa da quella che poi invece hanno percepito gli americani in un primo momento quindi Anna Iona non riesce a trovare Anna Iona Foa scusate io è americanizzata ma non riesce a trovare un editore al tempo e la cosa sintomatica è che in realtà la traduzione di Se questo è un uomo che è il primo libro che viene tradotto in inglese e la traduzione inglese è la prima traduzione in assoluto che si fa dell'opera di Levi quindi anche qui rilevanza anche per questo anche qui accade per caso cioè un giovane Stuart Wolff che adesso è professore merito di storia a Ca' Foscari è un importante storico di fama internazionale ma all'epoca era un semplice dottorando trasferitosi a Torino proprio per studiare la storia la storia italiana e viene a contatto ovviamente all'interno dei circoli universitari con molte persone che stimavano il lavoro di Levi e che era già stato pubblicato presso la De Silva nonché conosce la sua futura moglie che non è altri che la nipote di Leonardo De Benedetti ovvero il medico che torna insieme a Levi d'Auschwitz quindi praticamente il primo traduttore di Levi dall'italiano all'inglese è innanzitutto non è un traduttore è uno storico e dall'altra parte completa con primo Levi una prima traduzione di Se questo un uomo ancora prima che una casa editrice si faccia avanti e commissioni la traduzione vera e propria quindi cosa succede che negli anni 50 la Orion Press che era una piccola casa editrice americana contatta Stuart Wolf alla fine degli anni 50 appunto perché aveva una piccola sede a Firenze ed è un caso abbastanza raro che una casa editrice si interessi non tanto cioè non a tradurre a pubblicare ma a una traduzione che esiste già senza verificare che questa traduzione sia effettivamente conclusa revisionata emendata corretta ma compra diciamo tutto il pacchetto già pronto tutto insieme e ne fa una piccola edizione appunto distribuita negli Stati Uniti e in Gran Bretagna che nel 1959 viene pubblicata con il titolo If This Is A Man quindi la traduzione diciamo letterale in inglese di quello che noi conosciamo essere se questo è un uomo questa pubblicazione appunto nata per caso è curata molto poco nei dettagli manca l'apparato introduttivo manca sia la prefazione sia la poesia incipitaria che in realtà preparano il lettore a quello che non è una semplice un semplice diario di guerra sappiamo tutti e che tra l'altro parla molto bene della resistenza l'esordio è legato alla resistenza antifascista cioè Levi è stato condannato all'inizio scusatemi no condannato ma imprigionato perché perché partigiano non perché ebreo e lui si dichiara ebreo pensando di salvarsi in un certo senso perché era peggio essere arrestati come partigiani nelle langhe piemontesi quindi pensiamo un po' che confusione cioè già da prima è ovviamente un libro con così poca diciamo cura nell'apparato non tanto estetico dell'edizione in sé ma nei dettagli e nella composizione non trova un riscontro presso un pubblico diciamo di larga scala all'estero nonostante i pochi le poche recensioni che vengono pubblicate i pochi articoli disponibili soprattutto in Gran Bretagna sono molto positivi ma ecco appartengono a un'elite estremamente colta ed estremamente accorta e chiusa che non è l'opinione del pubblico che possiamo intendere noi e quindi questo esordio di Levi in realtà in italiano scusatemi in italiano dieci anni prima e in inglese dieci anni dopo passa anche lì molto inosservato nonostante due anni dopo e questo è importante parlarne poi mi fermo però l'edizione ancora in commercio negli Stati Uniti più famosa quindi in un certo senso che è stata corretta solo di recente nel 2015 reca il titolo di Survival in Auschwitz questa è un'edizione che viene pubblicata due anni dopo la Princeps quindi nel 1961 stessa traduzione stessa assemblamento dei diciamo quindi stesse omissioni stesse lacune e stessi errori anche però è titolo diverso e questo titolo che la Collier Books che è una filiale di Macmillan Publishing lancia sul mercato era proprio perché in America in quegli anni si stava risvegliando la sensibilità presso di questo presso il pubblico di questo rispetto a questo argomento era da poco conclusosi il processo Eichmann la Shoah stava tornando come diciamo un tema di di politica e anche di non lo so urgenza sociale negli Stati Uniti e quindi gli editori si affrettano un po' a riproporre sul mercato testi che potevano essere ecco in sintonia con questo momento storico ed ecco che Levi viene ripreso viene cambiato il titolo proprio per indirizzarlo meglio a questo genere di letteratura e di narrativa che non è né letteratura né narrativa sappiamo ma vabbè con un'immagine con una copertiva e anche con delle recensioni pubblicate dietro con una sorta di retorica molto banalizzante molto schietta molto legata all'immagine del povero sopravvissuto che ritorna dall'inferno e che per questo così entrerà nei cuori di tutti noi che adesso non leggiamo le spaventevoli vicissitudini quindi banalizzando molto il messaggio e commercializzandolo tantissimo ma nonostante questo tentativo per vent'anni poi nonostante la tregua ad esempio che ebbe un grandissimo successo in Italia fosse tradotta subito dopo anche in inglese per vent'anni quasi non si sente più parlare di Levi negli Stati Uniti in Gran Bretagna quasi se non che e questo mi ricollego a quello che volevo dire all'inizio quando si parla di esordio anglosassone dell'opera di Levi bisogna fare attenzione perché il primo vero esordio è questo di cui abbiamo parlato ora che di fondo è come se non ci fosse stato perché nessuno conosceva Levi e il secondo e diciamo più autentico la vera campana che risveglia l'opinione pubblica e la critica rispetto a Levi negli Stati Uniti avviene nel 1984 ovvero con la traduzione del sistema periodico che ricordiamoci però era stato pubblicato in Italia dieci anni prima nel 75 quindi non era un best seller italiano che attira l'attenzione e quindi viene tradotto immediatamente no ci vogliono dieci anni e tuttavia per una serie di coincidenze e combinazioni la casa editrice americana che decide di accogliere ancora una volta per spinta del traduttore questa nuova questa nuova traduzione rimane astasiata e Saul Bellow che aveva da poco vinto il Nobel per la letteratura promuove perché perché gli capita di leggere alcune pagine di questo di questo testo di questa raccolta di racconti e lo definisce sensazionale pertanto con la sua diciamo quello che viene accaduto lo strillo di Bellow cioè in tutte le edizioni del sistema periodico c'è stampato davanti questo libro che dovete assolutamente leggere e questo in realtà però fa una grandissima pubblicità a Levi che appunto era nessuno fino a quel momento e da lì contribuisce cioè questo momento peculiare quindi a metà degli anni Ottanta coincide con il vero esordio letterario estero in lingua inglese di Levi che gli garantirà fama per tutti gli anni a venire fino ad oggi praticamente perché questa questa tendenza poi non si è più arrestata ecco bene grazie mille sì direi che la situazione che hai delineato è abbastanza chiara no? abbastanza chiara ti ringrazio anche per la per gli affondi sulla traduzione anche dei titoli che sono sempre argomenti molto interessanti e che effettivamente la suona esatto e la suona anche di tante informazioni strategie editoriali attualmente voglio chiederti per concludere com'è la situazione sui due fronti quello angosassone da parte quello italiano che poi immagino sia la situazione su cui nella quale rientra anche tu forse sì ti chiedo come va va benissimo va benissimo perché come come poco fa dicevamo l'attenzione per Levi non si è non si è più arrestata a un certo punto non solo in Italia dove gli studi al momento allo stato dell'arte sono molto molto avanzati ma anzi la tradizione angosassone dell'opera di Levi a un certo punto ha compiuto un passo importante che è un pochino anche l'origine del mio lavoro e del mio interesse per la diciamo vicenda editoriale di Levi negli Stati Uniti ovvero nel 2005 l'editore North or Libera di New York dopo un progetto che in realtà inizia dal 1999 pubblica in tre volumi l'opera l'edizione completa delle opere di Primo Levi basandosi sulla diciamo prima edizione in Audi di opere complete dell'87 mi sembra forse sto sbagliando ho un attimo di vuoto in ogni caso l'edizione in due volumi in Audi che è stata diciamo la prima di opere complete per quanto riguarda il panorama italiano viene diciamo ripresa ricalcata passo passo per quanto ha potuto fare l'editore americano questo cosa vuol dire che se dal 1984 in poi abbiamo un'impennata di pubblicazioni e traduzioni dell'opera di Levi questo non ha come posso come posso dire non ha prevenuto il rischio che alcuni libri e alcune opere venissero o smembrati o proposti con un titolo fuorviante o anche semplicemente riassemblati in volumi che di fondo non esistono in italiano questa è una vicenda che ha colpito soprattutto la tradizione dei racconti di Levi che in realtà le raccolte di racconti sono un genere diciamo un filone molto importante per quanto riguarda la letteratura leviana e che negli Stati Uniti sono state completamente stravolte quindi al di là dell'intento ordinativo scusami al di là dell'intento come posso dire aggiuntivo cioè di tradurre e di presentare al pubblico anglosassone quello che non era mai stato tradotto c'è stato anche un forte impulso riorganizzativo di tutti quei testi che erano stati amalgamati smembrati o presentati in maniera lacunosa negli anni precedenti questo a pubblicazione in tre volumi come edizione autorevole una sorta di meridiani mondadori in versione americana ricordiamoci che non è qualcosa di comune nel mercato editoriale anglosassone cioè non esistono edizioni di questo tipo canonizzanti esisteranno per Shakespeare esisteranno per diciamo i big della letteratura anglosassone ma che un autore italiano venga preso ritradotto completamente e riassemblato su come posso dire stampo di quella che è la edizione più autorevole al momento che era al momento per quanto riguarda il contesto italiano è un segno molto importante cioè è un segno di non solo prestigio dell'autore presso un pubblico diverso da quello del contesto d'origine ma anche essendo l'inglese la lingua gemone del nostro tempo una sorta di canonizzazione internazionale per quanto riguarda Primo Levi che non a caso è uno degli scrittori più conosciuti della nostra letteratura all'estero e non solo negli Stati Uniti e questo cosa ha comportato da una parte ha avuto anche un effetto benefico per quanto riguarda la diciamo dinamica editoriale italiana perché un anno dopo è vero nel 2016 c'è la pubblicazione delle nuove opere complete da parte di Einaudi che erano in lavorazione ovviamente da molto più tempo ma che tuttavia appunto si stagliano bene come proseguo di questo lavoro e di questo intento canonizzante nel panorama anglosassone perché queste opere al di là degli apparati critici che sono ovviamente fenomenali ecco soprattutto per chi studia queste cose come me presentano una completezza ancora superiore sia alle vecchie opere Einaudi sia alle nuove opere complete in lingua inglese ovvero ad esempio piccola differenza rispetto a prima e rispetto all'edizione inglese di lavori di Complete Works abbiamo nelle nuove opere Einaudi sia la versione del 1947 di Sequestionuomo seguita dalla canonica del 1958 dove Levi ha aggiunto dei capitoli e fatto delle correzioni quindi al momento per quanto riguarda lo stato dell'arte il pubblico italiano ha praticamente a disposizione tutto quello che di Levi è stato pubblicato in forma di articolo rivista contributo su appunto giornale o volume o raccolta di racconti o diciamo dossier di stampa che sia al momento conosciuto e il pubblico inglese è secondo solo a quello italiano per numero di testi tradotti accessibili e soprattutto proposti con un rigore filologico impensabile per qualsiasi altro autore italiano e questo è un risultato incredibile e soprattutto che segna un passaggio importante anche nel tipo di comprensione e percezione di insegnamento proprio di Levi all'interno della letteratura italiana che non è più non può più essere confinato come un attore che si studia al liceo per quanto riguarda appunto la deportazione e la memoria antinazista perché ormai la situazione è completamente cambiata addirittura negli Stati Uniti si insegna scrittura creativa basandosi sul sistema periodico di Levi ovvero Levi che scrive racconti intitolandoli e diciamo prendendo ad ispirazione ciascun elemento della tavola periodica è usato non dico come manuale ma come ispirazione per gli studenti che vogliono appunto iniziare a scrivere e questa è ad esempio una cosa che in Italia che è sbocciata prima all'estero che in Italia e quindi le due tradizioni in un certo senso dal mio punto di vista si assomigliano sempre di più e lavorano sempre più insieme e possiamo quasi non dico unirle ma è sintomatico che che un autore così tanto conosciuto ora abbia tutto questo bagaglio editoriale alle spalle che appunto è stato fortemente frainteso e non compreso in un primo momento e che ora sia così diciamo ricanonizzato e ristabilito a pieni poteri nella letteratura del secolo scorso ed è una bella cosa è una bella cosa sì ti ringrazio ti ringrazio per questa bella cosa che è stata questa nostra chiacchierata quello che ci hai raccontato ringrazio ringrazio tutti quelli che ci hanno guardato ascoltato come dico sempre piantato a metà insomma basta che qualcosa gli abbiamo lasciato anche se solo per qualche minuto ti ringrazio ancora ti saluto grazie Stefano sperando di rivederci presto e un saluto da tutti i nostri spettatori arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti